e adesso è il momento di un artista emergente che sta spopolando in tutta italia lui è michael 23 anni pianista angelicalo questa sera ci saranno tre giudici meravigliosi mattia minesso anessandro nevitis e gianmark in grosso vai prego con esibizione mike e e e e e e e e Michael la tua esibizione mi è piaciuta ti vorrei nella mia squadra quindi per me sì ma non sono molto soddisfatto questo brano non l'ha suonato bene quindi comunque continuo a vedere delle limiti in questo ragazzo nonostante si applica tanto si vede che comunque ama la musica però ancora sbaglia diverse cose quindi per me è un no. Che dire Mike sono davvero stupito sono sincero non avrei scommesso un euro su di te appena ti ho visto entrare e invece hai spaccato di brutto davvero hai eseguito una melodia bellissima difficilissima però non solo l'hai eseguita l'hai anche saputa fare tua quindi è come se mi avessi trasportato all'arena è stata un'emozione fortissima quindi ti dico grazie e per me questo è avere l'X Factor per me è un grandissimo sì